Il signor Fiorillo della sezione di Luca, della sezione di Livorno, prima giornata di questa telecronica in diretta streaming sul... Pischietto in bocca, e allora si può partire. Quello che viene calciato dentro, quello che rimane lì, poi... Guineweka prova il tiro, deviato forse. Prova ancora il cambio per Battistoni, che ha sempre molto spazio, prova a passare, viene chiuso dal numero 6 parenti, che però perde un brutto pallone, c'è il cross dentro, il tiro. Anzi, un trollare, il sole è la testa. Va a lungo a cercare Papi, che prolunga per Guineweka, che lascia scorrere, prova a passare Guineweka mentre in aria può andare a calciare la finita. E poi la grande parata. Guineweka alza la testa, vuole il lancio. Cercare Guineweka, pallone che viene contro la palla del Guineweka, male però, allora Michelotti può andare al tocco sotto e la palla... Parte Papi, che va direttamente in porta, la palla che finisce alto. Il Cascina sta benciendo in casa con Froy, con Sacco. Stessa cosa il Perigni... E si riparte con il... Guardia la fine, la posizione regolare per mettere il cross, dove si è staccato il numero numero su intonso, che trova il gol che si banca la gara. La palla è la botteggio di 1 a 0 al punto minuto di gioco. Proprio il giuratore della Sampanita 2. Per la zampata... Daniele Abbas, forse uno di quelli che è mancato di più nel primo tempo della Sampanita, intanto questa è la buona occasione. Il tiro di Marinari, la palla che finisce alto sulla traversa. Tutto libero Battistoni. Invece va a lungolina a cercare Papi. Che riesce con la testa ad andare in area di rigore. Papi, fino in fondo, mette il cross, forse un tiro. Palla che finisce. Al meglio lui. Cercare Papi, che controlla benissimo. Riesce anche ad andare dalla palla. Poi Papi spinti da dietro, non s'abbandonare. E poi un rimpallo pallone che alla fine arriva di... Fintone. Entra e poi un ottimo pallone per la... Della Pina. Cerca spazio Della Pina, può andare a calciare in porta. La mattina scelata. L'avancio lungo. Pallone che arriva a Della Pina. Prova a toccare per Tiamo. Tiamo subito di prima per il Pine UEFA cantenare. Il Pine UEFA. 3-2-0. Per la Massese. Risulta di grande stile per la Patrionza. C'è proprio davanti alla porta. Perchè cazzo? Tiamo. Come hai detto? Stai sei mesi che non si esulta. Questa è una situazione bellissima. Vanno in porta. Il Pine UEFA. Trova. Il guardo 2-0. Per quello che fa... Borselli. Fofi. Spaglia. Tocco per noi. Allora attenzione. Il pallone dentro per Ipine UEFA che... Arriva sul pallone e tocca. Il Pino rimane in peri fino all'ultimo e salta. L'applausi del San Chino. Il numero 9 bianconiero. Il fattore di una patra sicura. Fermato da Malanchi. Grande partita di Malanchi. Poi buono che il controllo di Pino UEFA che lotta riesce a toccare per Papi. Papi. Se ne prende la velocità. Sfida Bozzi. Prova a passare. Bozzi prova a contenerlo. Papi passa. Pino in fondo Papi. Papi calcia. Provocanti su. Oh, spettacolo! Una gran partita, il Bineuerro che va a prendersi, l'abbraccio del mister, mancio lungo per Borselli che mette sul pallone, attacca Tiamma, poi Borselli prova a passare, eluda la marcatura di Tiamma, pallone che arriva a Borselli che prova il tiro a giro, palla alta sopra la traversa, tutti mettono l'arbitro, frischietto in bocca e dice che può calare il sipario sullo stadio degli Olivetti Gian Piero Vitali. Non ce la fai?